Conosci i tuoi campioni. Su Sportiva, la scheda del tuo idolo. Marco Van Basten. Tecnica eccezionale e senso del gol sono le qualità che gli sono valse il soprannome di Cigno di Utrecht. Nato il 31 ottobre del 1964, ha segnato oltre 300 gol e vinto tre palloni d'oro. All'Ajax fin da bambino, Marco ad Amsterdam segna 128 gol in 133 partite. Nell'estate 87 lo prende il Milan, in Coppa UEFA però si infortuna alla caviglia sinistra. Rientra in tempo per la volata Scudetto e trascina il Milan al trionfo. Ma è in Coppa Campioni che Marco dà il meglio di sé. Realizza uno storico poker e alza per la prima volta la Coppa al cielo. Quell'estate in nazionale vince anche l'Europeo, realizzando un gol da leggenda all'Urs. Dopo quattro Scudetti, un'altra Coppa Campioni, due Intercontinentali, si opera alla caviglia infortunata senza mai guarire definitivamente.